Buonabitacolo vicino all'Admo con un'iniziativa che è importantissima per salvare la vita ad una bambina di 9 anni che necessita di individuare al più presto un donatore di midollo osseo compatibile. Con questa necessità, ma anche per future necessità, il Comune di Buonabitacolo ha deciso di scendere in campo e sostenere l'attività dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo, organizzando una giornata di sensibilizzazione in programma sabato 20 aprile presso la biblioteca Parascandolo a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle ore 13. L'iniziativa, come detta, nasce dalla necessità di provare ad individuare donatori compatibili per salvare la vita della piccola Laura, 9 anni, che vive in Olanda con la famiglia originaria di Sessaurunca. Per salvare la vita alla piccola si era tentato come prima spiaggia la valutazione di una compatibilità con i genitori. Purtroppo gli esami hanno dato esito negativo ed è quindi partita la lotta contro il tempo alla ricerca di un donatore compatibile. In tali casi la ricerca, seppur complicata, potrebbe portare a esiti positivi se viene effettuata tra persone provenienti dall'assessaria di appartenenza e di origine della persona per il quale si cerca il donatore. Da qui l'iniziativa dell'Admo del Comune di Buonabitacolo, con il sostegno dei volontari del Servizio Civile Politeia a fare cultura di Buonabitacolo, che scendono in campo per questa giornata di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo dal titolo Tipizziamoci, potresti essere tu il tipo giusto. Durante la giornata, che prevede anche specifici controlli, si potrà, dietro consenso, aderire al registro donatori di midollo osseo attraverso l'acquisizione di un semplice prelievo di saliva da cui saranno poi estratti i dati genetici della persona per valutare eventuali compatibilità. La disponibilità del donatore, anonima e gratuita, fanno sapere gli organizzatori della giornata, non ha limiti geografici. Il Servizio Sanitario si occuperà di trasportare il prezioso dono lì dove ci sarà bisogno con il donatore e che diventa effettivo solo nel caso di compatibilità accertata con un paziente e il donatore potrà ritirare comunque il proprio consenso. La donazione, spiegano ancora i referenti di Admo, può avvenire seguendo due metodi specifici. Nella donazione classica il prelievo viene effettuato dalle ossa del bacino, mentre quella moderna consiste in un prelievo di sangue periferico. L'invito è rivolto ai giovani dai 18 e 35 anni in buona salute che dovranno presentarsi muniti di documento di identità. Il trapianto di midollo osseo, riferiscono in conclusione, permette di curare malattie altrimenti incurabili come le ocemie e linfomi. La compatibilità è estremamente rara. Per questo esortiamo tutti a scoprire quanto è semplice salvare una vita.